La crescita economica e sociale del tessuto produttivo lombardo è questo l'obiettivo che si intende raggiungere grazie ai fondi messi a disposizione dalla programmazione europea e regionale. Opportunità illustrate a Sondrio nella sede territoriale di Regione Lombardia. Le misure riguardano vari ambiti, sviluppo e innovazione, ricerca, ambiente e turismo. Teniamo conto che nella sua totalità il programma operativo finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale valeva inizialmente circa un miliardo di euro distribuito su un settennio per l'intero territorio regionale. Queste risorse sono state distribuite a imprese ed enti locali per tutta una serie di progetti di sviluppo compatibili con le linee di indirizzo strategico definite nel programma operativo. E bisogna riconoscere che il territorio di Sondrio ha saputo beneficiare anche al di sopra delle proporzioni con cui si raffronta alle altre province lombarde di questi finanziamenti. Soprattutto nei settori del turismo, dello sviluppo locale, quindi del patrimonio anche culturale di comunità, della sentieristica e alla fine le risorse di cui il territorio di Sondrio ha beneficiato superano di poco i 10 milioni di euro di finanziamento per circa 180 imprese che sono state raggiunte. E' molto significativo nel caso di strumenti di accesso al credito anche le quasi mille imprese che hanno potuto attraverso i confidi beneficiare di un accesso al credito agevolato. In Nombardia tutti i fondi europei vengono utilizzati in ricerca e innovazione, si investe il 3% del PIL. Con la strategia era interna e si muovono risorse per circa 80 milioni di euro. Solo in provincia di Sondrio e in Val Chiavenna sono stati destinati 4,75 milioni a favore delle imprese.